Musica Sì, Don Artù, è vero che questa è la migliore commedia di Scarpetta? Donna Margherì, ogni volta che Don Edoardo Scarpetta scrive una commedia, dicono che è sempre la migliore e siccome questa è l'ultima... E gli attori, li conoscete? Ma qui c'è il programma, leggete, è scritto qui. Musica Quanta gente! Non sono i troppi? Speriamo di divertirci. Donna Margherì, statevi zitte che stanno per cominciare. Grazie!